Mancava solo l'annuncio, che da ieri è ufficiale, il Milan Under-23 è in serie C e parteciperà nella stagione dal 2024 al 2025 alla terza serie nazionale. La denominazione ufficiale sarà Milan Futuro. Il Consiglio federale ieri ha ufficializzato l'ingresso. La crescita dei giovani rossoneri è pronta a concretizzarsi, con il tecnico Daniele Bonera. Valorizzare pedine di rilievo in chiave prospettica può rivelarsi interessante, da Camarda a Zeroli, passando per Scimici e Gimenez. Giocatori che potranno, all'occorrenza, giocare anche in prima squadra. E la crescita passa anche e soprattutto dallo sviluppo tecnico in serie C. Il divertimento non manterrà, ma sarà complicato adattarsi alla categoria.